Cazzo eh spritz, c'ho quello anch'io stasera eh Disinstall uno, eh Non mi devi rompere i coglioni Disinstallo la faccia se no Amici, abbiamo anche un annuncio molto intrigante Tre annunci molto intrigante Addirittura, ah io ne dico uno No, tu dine tre Quali sono gli altri due? Tu hai detto tre Io ne so solo uno Vabbè, uno è che hai code E vai, no, non era quello Allora quattro Prego mola, vedi tu, che li sai tu Allora, aspetta dovresti sapere anche tu Uno, ho code finalmente Ah vedi, allora Ho detto quattro adesso, stavo per fare quattro Ma comunque io spiderman, ho sbagliato Due Se volete impasticarvi di droga Esatto, però buono Abbiamo il referral link Si, non è una droga vera Sono delle, sono delle pastiglie Masticabili tipo energy drink Praticamente per Non come un energy drink effettivamente Ma sì, sono delle energy pills per Aumentare la concentrazione Per chi gioca Tantissimo tipo Oppure chi studia All'università Così Quindi Storm energy Quello che ha messo Giorgia Poi, un'altra cosa Per le magliette Attenzione, attenzione Abbiamo uno sconto Del 20% Aspetta che ho una cinice nella chat Che schifo Il 20% fino al 3 novembre Esatto Quindi Quindi veloce Le nostre magliette e le nostre fette Lo catturata Metti però il codice Mora che non ce l'ho sotto una Guarda te, era Vado a prendere, ce l'ho io Ce l'ho io Ah vado a prendere tu Vado a prendere tu Ecco Se lo usate su tube shop Le nostre magliette Le nostre Il codice Eccolo qua Termo Halloween Termo Strattino Halloween Avete il 20% di sconto fino al 3 novembre Potete utilizzarlo Quindi se volete comprare una maglietta adesso è il momento giusto E poi Il quarto annuncio E' che molto probabilmente la live di Halloween la faccio domani sera Sera a mezzanotte non al nostro No, non al nostro aree la faccio Adesso vedo se a mezzanotte o a luna come al soli Perché Perché posso Che domanda era Ok Che domanda era C'è un gioco particolare Qualcosa di bello No Ho comprato tre giochi oggi Per la serata horror Perché Poi domani vediamo se sono Accettabile o no Lo scopriamo in live Lo scopriamo Questa qui non è su Pampling Però su Pampling se volete potete prendere maglie col termo Sconto anche lì eh E Watchmen Quindi tutto questo spam veloce Quindi mi raccomando E' vero questa è una domanda Fai anche la live venerdì sera poi? Non credo Non penso L'anticipiamo L'anticipiamo ad Halloween Per rimanere più in tema Halloweenesco Bravo Siete contenti? Quindi Sono contento Adesso Adesso Andiamo a fare le operazioni Del Trentino Alto Adige amici eh Che stai zii Cosa vuole? Perché ci siete presi in causa No no Giorno 1 le live ci saranno Ah no Le live ci saranno regolari Esatto C'è anche C'è anche Pampling che abbiamo anche lì Lo sconto del termo venti Sì 8 Sì 8 lo sappiamo Io voglio sapere una cosa però Io sono già nella coop comunque Bravo Perché io ho questo puntino Sui grabaggiamenti che non so cos'è? Ce l'ho tipo Una settimana Anche io ce l'ho E' un quadratino tra l'altro Neanche un puntino Io mi infilo nella partita di Esper Senza chiedere il permesso No Probabilmente la live che salteremo Sarà domani sera Quella Alle 8 Ci sarà un Un video Caricato della live dell'anno scorso Sì Sarà Sarà la mia live dell'anno scorso di Halloween Luigi Mansion lo faccio io ragazzi Settimana prossima Sì Mi infiziate? Abbonirti Lo faccio prima perchè non ci sono giorni disponibili Prima di unirto Non fargli tappare o fare cose strane Non devi tappare Devi cliccare lì sopra e finisci Buongigio Grazie mille Lo buongigio Grazie mille Io vedo Esper online Ma sono online io E' online Adesso è online Un diritto inaccessibile Ma perché è uno stronzo Grazie buongigio Anche tu sei accessibile comunque No l'hai capito Non so Bruto bastardo Ciao Chris La missione Ci ne sono una Quindi direi che C'è questa Un po' di toretto ogni tanto Sarà la prima Sarà immagino Non so non c'è un ordine Non so Operazioni speciali classiche Ma perché ci sono diversi tipi Però Luigi Mansion Ma io non posso modificare niente Spero tutto Vediamone Ah perché No Lost sei tu Eh posso solo scegliere questo Eh scegli quello allora Questo ti devo dire Eh tutorial Non so Una monzola Tutorial Della coppa Non so Magari Ti spiega Guarda questo è un fucile E ora puoi sparare Che cazzo Che cazzo Che audio alto Perché Carca putana Ecco ci è Ecco ci Aspetta Aspetta Apposioni Audio E' un ciso uno Chi è? Ho messo due scelta Perché la grafica è terribile? E' niente Non puzza da niente qui Barco stai cadendo Tieni visto Ma a me no Grazie Mr.Dalec Grazie Mr.Dalec Grazie Mr.Dalec Grazie Dalec Ma questa era la mappa A me comunque era tutto a posto Anche con l'auto Tutto a posto No 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 Via 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 Ma che nel culo c'ha stato visto Spaccano qua due fucile Pascetta Che fucile c'è del fucile Dove è? Mark è già terra Allora Allora Sei nero Mark Raccoglimento Meno male Aspettate Fermi un secondo Fermi un attimo Fermi un attimo E' la cacca E' la cacca 47 E' la cacca 47 E' la sua internet Infatti fammelo Rimettere a posto anche a me Ah si Ti bastare Mark di fielici Eh Si si Ok posto Quanti ho Non c'ha dato Non c'ha dato pressure Aspetta cosa bisogna fare qui? E' una torretta robot E' una torretta di stimolanti E' un po' di stimolanti Eccola qua Prendetela voi Io tengo la cacca Prendo questo Ma non c'ha più che devo controllare un fattore Ah E' Sai cos'è eh? Amici qua però eh Non vorrei che sia la modalità orda Non ci sono le modalità orde Eh però non sembra tanto modalità orda Questo E' da Eh vedi Però non era esclusiva a PS4 E non vorrei che fosse questa no E' l'altra C'era solo questa di ZF in modalità Amici salite su da qualche parte E' non lo so State coperti Quando lo c'ho guardato io ce n'erano di più Scusa Dov'arriva Ma però Questa è la modalità orda Infatti mi sembrava Scusa io nemmeno ho visto quello Scusa Ho colpito della gente già nelle macchine Dopo ci riguardano anche i cecchini Queste Aspetta aspetta Facciamola ancora Facciamola un pochino Sì facciamola Voi con le minigun fate Dai con le minigun Ho usciti un paio Bestia che minigun Questa è l'automatica quella Questa si Mi sparo Marco sotto terra Arrivo Morelli Marco sotto terra Moro giati Moro giati E' mo' con la calma eh E' mo' con la calma eh Ma non senti più audio della mia vita Basta da minigun Basta da minigun E' una sega non sei Sono atterrito Eh aspetta ti lasci su Aspetta Eh ho bustato una maggiore Non sento la sega da più Attimo Perché mi sta sparando Non vedo Maledetti Ho tirato una granata Va bene Questo c'aveva il lanciapur Allora Posso sentire con le mie orecchie Guardi però questa si è Modalità orda E' stordito Ma quindi non vorrei Che abbia capito il contrario C'è solo la modalità orda Sul cosiddetto E sono esclusiva per la play Tutte le altre Grazie a tutti Grazie a tutti E grazie anche a Luke Sparrow Grazie mille a tutti e due Qualcuno si infatti si può informarsi No ma mi fa strano Perché oggi quando l'ho vietto io C'erano molte più modalità Ma scusa però Dopo ci guardiamo Questo è un elicottero Non ho fatto un cazzo io C'erano le missioni Ma mi ha rotto una cosa Esatto Mi sembra più di privato Sono il senior Ma pronta l'applicazione Abbiamo operazioni speciali classiche Ma c'è un bombardamento Cos'è un bombardamento? Cos'è un bombardamento? Cos'è un bombardamento? Sì abbiamo il... Qualcuno venga a prendere la cassa Io l'ho presa E ho preso le... Le cose Eh arriva il bombardamento Occhio Tranqui Sì Non sarà per noi Ah tra l'altro a ogni ondata ti... Ti distrugge tipo le torre trove del Jedi Sì c'è... Io ce l'audio bassissima Perché... Perché devo... Voglio arrampicarmi ma non è... Dai l'aria Un po' il gioco ma non spaccarevi tipo di iniziato Io è un macello Eccoli li vedo Dove? Eh non posso... Oh ma il... È il missile Rispetto a cosa? E Speri... Ah ah... Devo arriva il nuovo di solito No perché sotto di me Che sbomba?! Ah eccoli la E' nel metro Ma lì di una missilata ci stava No ma questo non posso scavalcare Ok sto uccidendo i radiatori Posso scavalcare vado via Io li vedo Sono dei razzi Visto a sparare Guardi che si Parcalaca però si tolgono Ma infatti devi stare molto a terra Mi tolgono veramente un sacco Ti ha sparato Mi ha sparato Questo Buonasera Eh quanti sono volelli Sono tutti ma indietro Pippo Eh sono morto Ho sceso un altro Fanno veramente un sacco Fanno veramente un sacco E' la modalità realistica di Rainbow Eh purtroppo Grazie piccozza Covid Bene Aspetta usciamo un attimo e vediamo un po' Io tutte le 23 uccisioni l'ho fatto E' fatto Badona Badona Sì anche me l'ho fatto Badona Eh non mi fai andare Eh vabbè Ah ecco Prova a passarmi lost Esperi Espelli No Aspetta No non posso farlo E' more down ma nel futuro Scusa io c'ho Gioca C'ho la mia partita in missione Clicco su missione Eh c'è questa Aspetta Eh come esco dal party C'è Boh Party Ah forse devo fare questo No No Questa c'è una partita però cerca Oh la smetti? Questa c'è una partita mi cerca C'è successo C'è successo C'è successo Credo che bisogna Siamo strappati no? Siamo abbandonando al party Sì Allora Vedi io c'ho Io c'ho Partita pubblica Operazione speciale classica Si Non è che qualcuno Non è che siamo troppo bassi Alcuni di noi sono troppo bassi Ah no No In privata non ci sono alcune cose Secondo me No aspetta Clicca su partita privata Partita privata A me da missione ne ho una sola Solo salvaguardia e basta Eh ma scuola Se fai il party E fai partita pubblica Eh Quello che pensavo adesso di fare io infatti Eh Troppi anni Qua Però non è possibile che sia così difficile Che fare queste cose qua comunque Eh Vito e io Un chilo Vai Non posso Adesso posso Adesso posso Non so c'era il lucchetto prima Ciao Davide Ottimo Ciao Davide Ciao Davide Ok Ehm Che manca Ok Marco c'è Arrivando È pubblica o operazioni speciali? No prova pubblica Ah ok ci sono 4 operazioni adesso Eh allora Beh la prima Sì vabbè perché non è pubblica Però abito Faccio privata non mi mette queste missioni qua scuso Io ne so Perché non è Cioè siamo in 4 quindi non è pubblica Cioè siamo noi e basta Eh sì Eh perché privata poi Che cazzo non so La rete terroristica di Al Malik Al Malaz Al Malaz Bitbolanz Bitbonacci Ma voi siete tutti la stessa classe Fate cagare Non è classico da Morelli Sì io c'ho il martellone vedi Sì Non è vero non ce l'hai Oh io non ho segnato niente Oh io non ho segnato niente Ah il guidato E non so come si modifica questa roba là Come si modifica il ruolo E non l'ho visto Morelli Faccio il medico dai Non mi dici le cose Dov'è che l'ho aspetto Dov'è che l'ho aspetto Ho fatto il medico Era il menù Ah eh non lo so Nelle classi Cioè nell'armeria Povero Fibonacci Fibonacci mica ci offende Non so Ho perso il gol Prendo il FAMAS qui va E prendo FAMAS che non l'ho ancora Mi faccio Che mi uccido Ma qua ci sono altre cose volendo Come si fa l'attacco corpo a corpo Questa è una granata Questa è deficiente Ma che cazzo abbiamo i rimba Morelli che cazzo Ma dove vai? Ma ci sono i fucili figli Ma che cazzo mi serviva se Aspetta aspetta Cosa bisogna fare Briefing Al Malik raggiunge il quartier balsario I cattori tenenti I cattori tenenti Qua si può passare ragazzi Ma è il Kaida ha modificato Non ho capito Allora io prendo un'arma e me ne vado C'è una sacchetta Questa ci voleva un cecchino qua mi sa eh Eh non ha la classe col cecchino L'ha appena tolta io te la Non credo bisogna scavalcare Allora non lo fate qua Non pensi questo Ma penso che era sotto Come dicevo io Nel ascensore Mi sa che noi siamo atterrati qua Eh si Con la E Però chi è con la E? Poi andiamo sotto così Se c'è l'ascensore Ma comunque io da me Andiamo giù Ah no andiamo a piedi Vabbè c'è l'obiettivo Ah no sono 16 piani sti cazzi Eh fanculo E vado Arrivederci Buonasera Guarda Guarda secondo me bisogna aprire la porta qua Non c'è nessuna porta Andiamo giù Vabbè Bezzotto Ricarico Eh scendi No Io ho anche la B come Stavo lanciando giurare una Buonasera Marco Ho anche la B come Come si fa ad aggrapparsi C'è scritto F Ah ma porca vacca Stavo sbagliando a guardare Buonasera Esatto Dobbiamo andare ai punti Vorelli Come una stanza Eh com'è? Cassa di munizioni c'è qui Vabbè non ci serve adesso tanto Vorelli buonasera C'è gente ragazzi c'è gente C'è gente PIPPO Ma non abbiamo armi silenziate Vabbè Moro come hai fatto Ma chi si fa esiste Mazzami e basta Ma deficiente No ci vorrebbero armi silenziate effettivamente Abbiamo quattro Mi sembra un po' spoglio E' vero Si sembra veramente counter strike Eh spogli Non c'è niente Non so se si può usare Grazie lord Grazie lord Si è lamentato che ho sparato un colpo E stai usando il cuore Ma recato di merda Ma recato di merda A parte che ti si è lamentato che ho sparato Cosa volevi fargli Scusami Ci siamo altri due 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 di qua eh Vai Ci siamo altri due se faccio Ci sono salito con te Facciamo noi la differenza Può salire sul tetto qua Guardate Possiamo anche salire Però non abbiamo il cecchino Non abbiamo il cecchino Fai benzina fai Occhio ai riflessi I riflessi cosa? E' un po' cattato Vai Qua c'è il mini market Si può entrare? Si può entrare? Gluglugluglugluglugluglugluglo Qua qualcosa di utile Cuor Steph Ma vai a fare il culo Vai la vai Andiamo li ha dei позволis Ah Chi è venida? Molano user Che cazzi Ha 81 e occhio Stiamo going in a comando Gli ha bonitimare Stiamo Set Eh non abbiamo il c… Stiamo qua dietro Chi è? Piffo Oh! Qua sto ur! Io faccio il giro dall'altra parte ragazzi Porca minchia L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Sto entrato dalla finestra Pieno di gente Ma che è successo? Io ho riparetto fuori C'è un cecchino, ho ucciso Ah c'è la cassa di Alcorat Buonasera Ok Questa è un car, lo voglio il car C'era anche all'inizio il car Potete tutto voi allora Sto scaricando delle cose No ma mi sembra spoglio C'è qualcosa che non... Aia! A me è buono Attenzione ragazzi Ho tirato una granata E' nella macchia Quei paura Trovate un'altra carete e perquisitelo Ho preso Spaccati Attenzione C'è un pompa eh se lo volete Io lo prendo Ho preso io il pompa Non c'è la Battle Royale Non mi par C'è per ora almeno no Tutte le casse che si trovano in giro Credo siano quelle tipo da Battle Royale Mi spanno le spalle Quando calerà un po' il gioco lo metterà Aspetta ragazzi Ma io non posso metterla qua zack a voi Puoi buttarla La butti a te a tre C'è gente solo Non ho capito Ah lì E' sulla Claymore che non c'era più L'ho smorto Non ho la scopra Faccio per voi Venendo Faccio Faccio io Faccio io Ah Spara un po' il gioco qua eh Mi interessa? No Cosa dobbiamo fare qua? Cattura i tenenti Dov'è l'altro? Ah la 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 Vado a fottare il tenente nemico qua eh Sì Tirati giù le mutante Eh Ragazzi c'è chi io che sono Ragazzi io scendo e vado a Vado giù 360 Ah Chiudo la porta Mi apre le tasse? Mi apre le tasse? Allora L'ho ucciso Allora Carimmi Carimmi Allora Carimmi Anche qua Ho il caro Veramente Ho il caro Sempre Carimmi Ho sbagliato il tasto Attenzione ragazzi Ma che cosa è quello? Le mouse Non così due Cos'è? L'ultimo è sul tetto Vado di averne ucciso uno io Demunizioni No non si può andar di qua Ah è di qua forse Un altro missile cruiser l'ho trovato Ero un kamikaze Aspetta fate andare avanti Ah si sono i kamikaze Occhio veramente Appena entriamo cambiano frequenza Trovate alla svelta il prossimo ufficiale Piano piano Moro Questa nemica diretta verso di voi Ah ma si sono spostati Ah si Piero Grazie Valentino Chi ha regalato la Shub Eh vabbè Ah vedi Ha regalato la Shub a rosa Perché è morta di fame Ah si Grazie Gioja Chi è? Io non ho più le posizioni Devo ricaricare Ehm ma dov'è l'altottenente? Ah ma è là in fondo Ha cambiato le posizioni eh Si continua a cambiare Ma ce ne sono altri due C'è un food No Grazie Doctor Who Grazie Doctor Ah il sopra Vale si è mai presenti Oh stilta di pene C'è uno qua dietro Eh peccato che ho lasciato più il card Ormai l'ho mastitato il gioco guarda Si è in testa E' grosso E' grosso questo Ma capi? Devo ricaricare Quello G? A te Ma aspetta Ma io c'ho il missile ozzo Fammi usare il missile che c'e ne ho Aspetta E vabbè E' tranquillissimo di stare Un po' di kill le ho fatte Un po' di kill le ho fatte In carico Che... Che è le spalle scusa? Vai Marco vai Ok La minigun Dammela a me Prendetela che fate un cacco di kill con la minigun Non posso... Mi hai spavuto? Prendere lassù e non è da in light Quindi ci sarà un ingresso normale Eh che prima ho cercato di scavacare il muro Che è? E' da in light Guarda Morelli guarda Eh! Occhio Moro Mi mò Mi mò Mi mò Ok Vedo un cazzo che sono e ho flashato Ah aspetta che sto facendo col computer Ma ne manca una in realtà A me non dà l'obiettivo finito E adesso lo dirà Che darà qualche indicazione Prendo le polizie intanto Porta i tuoi bla 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 da un bla bla Ma è lo stadio Questo era il dottor Cox Spontano L'avevi lasciato qua vicino Ma scusa quel palazzo l'aveva piegato? E vabbè E' l'unico poverino che è tutto storto Vai 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 Morelli Spare no? Parecchiano Come gira audace Pianco Guarda questo salto Pazzo Vedete il camion rosso che esplode Siete quasi allo stadio Il segnale si interrompe vicino ai disturbatori Ma si Parchigia 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 Vogliamo farlo garappate Quando ne trovate uno scaricate tutti i dati criptati e poi distruttate Dove è che? Non da lì dal punto bianco Non so sarà perché non abbiamo il biglietto È l'unico 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 C'è proprio un silenzio C'è proprio Ahia da via Ah ma arriva ancora Ah dobbiamo tenere qui Dobbiamo copiare i file Ma tre minuti Ok un minuto Batteria leggera in arrivo Non abbiamo coperture però Batteria leggera in arrivo Ho distrutto la macchina Non avrebbe metterlo No vuoi usarlo È sparito Io che cazzo è che c'ho il drone? Ma dobbiamo stare lì vicini o? No è un lanciagranate questo L'helicottero Ok andato Non abbiamo il lanciacuzzo Ma sta scaricando 11 mega al secondo Ah lancio la teoria Non lo so 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 È morto È una cassa di ganate Se volete Eh Mettila giù Io non ce l'ho Ma è tutto Pogga a buttare Pensi a me Credibile Stiamo prendendo il segnale Stiamo prendendo il segnale Stiamo prendendo il segnale Aiuto amici Mi stanno spaccando Vai Marco Spaccati Sì C'è morto C'è morto Chi è di spalle spalle Sì sì Attenzione Ok andato Siamo alleati cazzo Siamo alleati cazzo Ehm Un microonde Non ha il simbolo del prime Quindi Boh Ti è scaduto il prime Oppure hai prime Amici Devi aspettare due mesi No Sono al simbolo del prime Eh Effettivamente non hai il simbolo del prime Quindi No io sono alleati cazzo Ok 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 rompeti Ho un po' di problemi Ok Ehm 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 Uccidete quello grosso qui Io non muoio Ho trovato l'rpd Che non è l'rpd Bravo Ma io quando Ah tra cinquanta un minuto Si vuole fare questa volta Non è l'rpd Non è l'rpd Non è l'rpd Oppure Ricollega 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 sui prime Ehm Dove sei varo? Eh sono morto Ah Eh che c'era veramente tanta gente Mi sei buttato giù così Eh Aiuto Non me l'aspettavo Più che altro Questa che riguarda Ti sto finendo Eh C'è una cassa di munizioni Lascia 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 Perché 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 non mi dà le munizioni Ah merda C'era una corazza questa qua Ho lasciato giù la corazza Che cazzo Eh ho visto L'ho visto Io non ce l'ho Vedi ho preso Servono Ok Posso muovere? Ehm Ok Può essere Vedetevi la corazza Vedetevi la corazza Con tradizione Hai una Una sub Per i primi tre mesi E dopo i primi tre mesi Per i primi tre mesi Per i primi tre mesi Eh si Quello che fa strano Io Sono respawnato Con l'elicottero Arrivo Arrivo Eh si dai È la mappa da Venite giù Venite giù Venite giù È palesemente la mappa della battle royale questa Non posso passare Non ce la facciamo Non ce la facciamo Faccio una cosa Molto pericolosa Ti metto la claymore addosso Non sta funzionando la claymore No ma non sta neanche cadendo lui Fai di sincero Arrivo eh Sono stato nel paratelutino io Ma se vado sopra lo stadio Ah sopra terra eh Non vedo niente se si vuole di merda niente Cazzo Mi sono buttato sopra Lo stadio per i primi tre mesi Ehm Vediamo su Mark Dite che lo posso riusare Eh aspetta che arrivano altri da sopra eh Vai a trovarla però Ma tu dove sei la su Che cazzo c'è Scusami È qui da disturbare qua eh Ho usato male il paracadute io Aiaiaiaia Ah Non so se puoi scendere da oggi Magari c'è un altro paracadute Fammi provare Eh vi lascio giù robe Le munizie Sì Io lo posso usare di nuovo C'è di risparmio C'è di risparmio C'è di risparmio C'è di risparmio Ma dai Ma per niente Amici scusate se non vi leggiamo come ti deve Eh spritemi qua se riesci Non botto di gente che sta arrivando Li sto triturando Arrivo di sotto Devo ricaricare Don fattero Copritemi copritemi Tranqui zii Ci penso io Io ci rilancio un missile Tom Cruise Gli rilancio C'è ancora la seconda questa Eh voi che avete la minigun dovete fare tanto lavoro Ci dette di più Posto 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 Prendete le munizioni e andiamoci Dove sono? Qua, qua dove sono io Sono io Dove sono io? Ok Dov'è l'altro obiettivo? Eh Eh di là Ah di là E bisogna fare giù dello stadio probabilmente Qui sono tenuto pompa Ma che paura Ma questi che cazzo facevano qua È un biocaricatore Ho una granata Ma perché non mi dica una volta? Ah Amici perdonateci se non vi stiamo leggendo come si deve Ma state vedendo Non è per niente facile Ah si lo visto Come sta risposto vale comunque Si lo visto Oh ferrignone Oh ferrignone Oh che arriva altra gente Arrivedo Ma ammazzo tutti Bastardi terroristi Non mi terrorizzate Ma ci sono fatti dello stadio Ma io sono... Se ne ho trattato dello stadio Che ne sai? Ma che ultrattato dello stadio Guarda questo Cassa di granate c'ho Dopo la piazza Allo stadio io Non è spesso Non mi conosciamo noi Non mi ricarico Ah dici che è una divisa di una squadra questa Eh si Non mi ricarico Ma io è comoda eh Vi amiamo Jack Questo sicuramente Anche a te Mi sparo un sacco di progetti addosso Pippo Inzaki Alle 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 Ah è qua? Aiuto mi sparo Io ho una marea di colazze Ho una marea di casse Devo lasciarvi giù Lasciate tutte Vi lascio giù quella delle minuzioni Corro corro Io ho perso quella delle casse Eh delle casse Delle Ma questo è le minuzioni Delle granate Mario sono proprio con voi Pronto a sopravvivere Eh morelli dai Ragazzi venite qua È qua l'obiettivo Sì aspetta Morrivo eh Mi ha lasciato giù tutto Cos'è questo? È vero Mi hai mentito dietro Non so cosa sia questo L'ho messo giù Ma che cazzo ho preso Lascia via Ragazzi C'è lancia granate Qua le corazze L'ho messa qua adesso Ah ok Ecco fatto C'è un capitale confuso infatti C'è gente con lancia granate occhio UR C'è l'RPG qua eh Così lo credo C'è l'RPG ho preso Eh magari glieli forse L'ho ucciso Lo lontano con il lanciagazzi Ok fatto Dov'è? 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 Dov'è il prossimo? Eh non lo so Ahia Lo cazzo ho arrivato Missile Ma arrivano dei razzi Capazzi Quello che vi dicevo Ma c'è un cazzo C'è un air gigante qua C'è un air gigante qua Due air gigante Ah ci stanno lasciando i rifornimenti Ci sono i loro aiuti Ok Calmi si era pronta l'attivazione La uso io Eh ma poi ci puoi usare anche te no? Mi sa che ce l'hai una con il mio? Quattro Mi ci devo ricaricare aiuto Grazie Valet Grazie Valet Sono le operazioni speciali Sì ragazzi Io ho due secondi Ma se la devo adesso non so Ok Ma dobbiamo andare Si ma posso uscire Usa la terra Ma usalo Esatto Eh però usalo Eh ma non posso più usarla Io Arriverò Parlerò Sono per terra Questo è grosso ragazzi Sì Stai arrivando verso di me Aspetta 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 Serà con me ragazzi Palesemente Vado via Jezar sai lanciaratti? Sì Vado su Closo tutto Il carro armato Jezar Grazie per i congi Ho bisogno di una mano Eh non so più di uno Ho bisogno di una piccola mano io Eh ho capito quello che stavo uccidendo tutti Eh questo è grosso Jezar Eh si Eh quello l'ho visto Eh quello l'ho visto E' una puttana E' morto Ok ok si Eh Deve riesci a tirarmi su qua dietro Sono morto No mi sa che non riesci a tirarmi su Voto per riprovare No Non voglio riavviare la Ma poi da capo Ma dal checkpoint La riavviare No credo che ci siano i checkpoint Ok Vero Ma dice riavviare la missione Chi ti dice Ma si è riavviare la missione Perché? lui Sì Io vorrei fare di nuovo Veramente Facciamo si Ok Veramente una cosa Ok fa partire da... No Non lo so, vorrei che magari non era caricato Vediamo Buonasera No, mi sa che dall'inizio Ah no, ok Ah no Beh, si fa rifare Vabbè, dallo stadio Capito, non si è più bella sera Vedo troppe persone a vedere Quando arriva la canoniera Aspetta, lo usa la te, però fai fuori tutto La fammi usare la colazza Ho butto subito 4, me lo andai Non sentirvi di chiamare la canoniera Per spazzare via le forze di Alba Un sistema trofi? Ah Per i missile e per le granate Mi sono preso la mia arma per carità del mondo Tienilo per la fine Ma questo stava chiamando Oh, ambigille Più di gente Ma qui c'è la polenta agli azzi Buono Ah, qui con te fui Mi chiamiamo azzalli Mi chiamami in forza probabilmente Certo Provo, non hai un'arma migliore Ah, non c'è le spalle Arriva la findoria Mi si avalgo Sì, ritrovo Come errore di trasmissione Ma che c***o È come la linea di Moro, guarda qua Muoviti Faccio esplodere Gli ho dato, gli ho già dato E' ripartito subito Ecco Può esplodere l'altro No, alla fine bisogna sparare Gli veramente Eh sì Morite Un po' Un po' ricaricare Un po' ricaricare Metto mezz'oretta Ah C'è il mitragliatore pesante Mi piace La guerra La guerra Brutta Occhio a non cadere Adesso moro Grazie Mi sono infilato proprio Devo ricaricare Devo ricaricare E qui non c'è Non c'è nessun riparo Che da la prova ad arrivare Anche a me mi servirebbe Arrivo Amici ma si è fatto questa cosa Cosa succede? Sono Mi sono curato Ma mi ha drogato da solo Sì Sì vi ho curato Terra anch'io Merda Aspetta Ah questa è la granata Lo tiro su io che faccio prima Ma è vero che sei il mitico È vero che c***o le classi Ma che c***o che mi spara Correre sul posto Eh a me si è bloccato Orca miseria Non c'è riparo Adesso è troppo bloccato Eh vedo C'è una corsetta sul posto Da sdraiato Buonasera belli Buonasera Ciao a tutti Ok Vi leggiamo un pochino così Stasera che siamo Un pochino a tre Ma chi è? Ma porca p***a C'è questo qui dietro Questo è tuo viso Hai capito? Un animaletto Teoricamente Se comunque Hai smirato fuori Con la camioniera Se no che è salvo Mi sparano Aiaiaiaiai Mi hai sparato A dove? A dove? A dove? Piano piano Ok Ok l'ho ucciso Devo ricaricare un'altra volta Qualcuna delle calsi o qualcosa No No! Se no sto morendo, porca va! Purtroppo... Sto messo un po' male! Mi stiamo troppo, metto! Non so cosa facciamo! Ma non c'è bisogno! Non c'è bisogno! Non lo usare! Ho mai messo! Amici, sono una perra! Porca puttana! Ti l'ho detto prima di non usare! Sono un paio che sono andato! Sono una perro, eh! E dove vai, purelli? Andiamo a darmi là! Parelli! Troppa gente! Porca puttana! Vai, ti vanno a tirare su! Eh, dalle spalle, purelli, anche una spalla! Purtroppo non ho la cura... Andai! Ti tiro su io, Marco! Grazie, Mauro! Prenditi questo! Ho finito le munizioni! Vieni via! Vieni via! C'ha le munizioni! Qua cos'è? Staccare da casa da loro, morendi! No, riparo mobile, questo! Andiamo a vedere! Giolo! Ho letto giugolò, eh! Perfetto! Amici, qua è pieno di scienze! Grazie per la sub! E benvenuti! Ho già il sistema troppi! C'è andato, c'è andato! Devo scappare, c'è una granata! C'è andato! Devo ricaricare! Ma dove cazzo mi sparano poi? Non si vede! È tutto bianco! Non riesco a ricaricare! Non riesco a ricaricare! Con quest'armi! Alle spalle! Ma non c'è paura! Un altro! Maelli! Un altro! Un altro! Un altro! Un'altra muzione toglia la libera! Ho 42 colpi! Ottimo direi, ottimo! Ottimo la colpa! Ottimo! Ottimo! Niente no, un cazzo Espetta, espetta, aspetta Ah, però l'ha visto? Vi ha fatto rientrare Vieni via, vieni via, ho finito tutto, amici Eh, prendiamo la loro, Marco Eh, l'ho già preso, i mini Uzi Ma ci sono troppi nemici, dove cazzo? Non c'è tutta sta popolazione nel mondo Un genocidio Andiamo subito al punto Grazie a Giolo, prima che non l'ho ringraziato Corre al punto, corre, corre Dove corro? Saltarello E io ho finito tutte le munizioni che avevo Mi hanno pulito la faccia Che cazzo è stato a farmi contro il controllo? Sto arrivando, sono a 100 metri dall'obiettivo Ma perché siete in fila? Ah, come loro lo tiri? Come faccio? Grazie elettronica Stanno sparando qua di fianco Sono ucciso E' quello che è gigantesco c'è Eh sì che c'è quello gigantesco Allora devo aspettare, siete da solo Amici non ho più niente io Anche io Mi freggia Non ho munizioni, non ho armi loro per terra Non ho più niente Mi sto colpendo più grande Sto colpendo Avete i missili? Ah no io c'ho il missili Non ho più niente Cosa ho i suoi uzi? Scappo scappo Che mi va? Che mi va? Ah ma se muoio cosa succede? Amici io aiuto E' mamma un elimo grande eh Mi ha dato Orca vacca aspetta 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 Ho un artista Ho un artista che si trova colpi e banca Mi posso lanciare il missili Non ho più corti io 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 Vabbè Cosa spawni poi E' andata Aspetatore Non posso rientrare quindi? Tra un minuto Vai Che è il zero? Su lui Su lui E' lì E' lì Ok buono Ma che cazzo Quanta roba c'hanno questi qui Guarda la minigun Ok Il laser prima mi ha detto Sonti buttare Non cadere E si è buttato su lì Mi svuoto io in realtà Amore l'ho sbagliato E' anche il laser dopo Io l'ho sbagliato Guarda ragazzi Se vedete che crash così E' perchè coda Col piccico io Non ce l'ho qua Guarda può essere Non lo so Se l'ho presa Hai girato Non lo so Perché non ci stavo guardando Perché stavo pensando a non morire Non riuscivo neanche a ricaricare Ho preso anche una cosa Di munizioni quando Fatti spagli Potete esplodere l'hélicopter Ma come ho trovato la sedere vivi? Scusi Mi ho uccisi tre Anche arma del cazzo E' ottimo Marco Posso tornare? Si è tornato? Rinforzi schierati Sto arrivando con un aereo Aiuto aiuto Amici ho finito tutto Venite Anche la minigun Quindi? Ce le ho io le munizioni Marco eh E anche io ce le ho a quanto pare Ok lo mettiamo Ho fatto Sotto abbiamo fatto Arrivo Via Prendete le munizioni da Marco Ah io vorrei cambiare arma Più da altro Bellissimo poltello Mi fai un servizio Mi fai un servizio Mi fai un servizio Mi fai un servizio Arrivo Marco Si Faccio io Mi fai un servizio Mi fai un servizio Mi fai un servizio Mi fai un servizio Grazie Ci sono due armi Voi sapete come noi Se vuoi Mantea Scrivilo nel Discord, non scriverlo qui in chat È sicuro, adesso ti dà la garantia E poi il gruppo lo puoi fare anche io con quelli su PC Quanta gente c'è, quanti ne sto uccidendo Mark, Mark, riesci a tirarmi sul te Non posso essere così milioni di milioni E quel cestuglio non può essere così sicuro Eh, qui sono di petto di moren, l'ho detto Eh, 12 secondi, Mark Mark, un botto di gente Anche gente di... Eh, non ce la faccio, Diego, nel caso Eh, niente Ah, sì, certo Certo, certo La mazza di farla a caso poi, siamo tutti nascosti E quelli laggiù con il... lanciafile Ho ucciso un po' sotto Ok, ho ucciso quello con lanciamissili Ragazzi, io ho 60 kill, quanti sono? Eh, vabbè A parte, che siamo delle divinità noi Aia, ma che è, che dolor Ma questo cosa ci fa qui sotto? Ma un culo, ah, un belino Dovrebbe darvi la... La cannoniera tra poco Eh, sì Teorie Il sistema trofio qua Ah, ma c'ho tutto io Le corazze Eh, usali, usali, usali Usa tutto Ma io perché non ho due armi? Ho solo un'arma io Ho posizionato il router Intanto metto... Tu pigli, tu pigli, tu pigli Tutto quanto, pigli Ho messo il sistema trofio anche io Cazzo, siete dall'altra parte, però Ma ti butti con l'elicottero? Eh, sì, però è... Un giro particolare No, ti butto sopra, ti butto No, non è fatta sopra di me Eh, perché tu sei morto nel giusto momento Amici, ho delle casse Ah, fa una ligliaretta Finita qua, finita Non c'è, tu vuoi scendere, butto lui, no? No, non c'è Amici, mi butto giù questa Con le piastrine Sono sopra di voi, pian pianino Dovete... Sparate il coso, sparate il coso Dietro di voi Ah, chi? Dietro di voi Ah, ciao Così vi attiva... Ecco, cannoniera disponibile Vai Ecco, cannoniera disponibile Eccovi Ma... È una squadra cola? Ma no, fatiratemi su, ma mi ha fatto precipit... Ma forza Ma sei un imbecilio, se... No, è che il carro armato ha sparato lì, ma ha detto un'altra cosa Arriba, arriva Arriba Sta roba devo prendere Aspetta, sta succedendo Brugge tutti i carri armati, eh? A-K, addio Quello funziona? Spara Passiamo sopra a fai niente Arriba così con me Che dolor, che dolor, ma che dolor, ma che dolor... Tiri, 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 tiri... Ma vacca vacca Ostia Ok Qua sopra ci sono degli AK Ok 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 Provo Ok Amici, troppa gente Arrivo, arrivo Unica è spararsi Ma no, è già finita Ma no, vedo, ma ha caramata, due colpi pesanti e uno è morto Due colpi E poi, scusa, mi ha fatto trattato E' tutta una granata Stai, ho durato mai del bisturro Penso io, c'ho arca puttana Ma questi mi sparano, sono a terra Vatti qua Eeeh, non so Ma su terra anch'io, ma scusami Amici, vi salvo Vabbè, ma è possibile Non posso, non posso salvarvi da terra, porca mia Eeeh, in carico cazzo, eh Ah, sei morto Ma scusami, c'è io ho... Ma c'erano veramente troppi nemici in più di prima, però C'è Ho fatto quasi 100 kill solo io Cioè, quanti erano, scusami Si, ma Thomas, mi hai visto un attimo più Ma tu l'ho programmato solo Ho fatto più complicati, scusa Eh si Lo ritrovi l'ultima volta? Un secondo, se faccio una prima volta Eh no, te la riavvia... non lo fare Ok Perché non è l'ultima volta Si, chiamo la tale che non muore mai e responi Però... Folline Che fanno sul tetto poi, scusa Eh ma... Stetto di che? Quando uno muore si butta sul tetto Anziché buttarsi... Eh, ho capito, ma... Eh ma rimane comunque sempre l'ultimo Eh, però... Fa caccare... Ah no, vabbè, 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 vabbè Vabbè, 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 vabbè Vabbè, 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 vabbè È un segnale debole Ci senti il d'ultimo Andiamo giù Occhio che c'è già un pippo, eh Un pippo!? La pistola è veramente defeccatoria Quanta gente c'è qua! nenze Ottimo Joker che hanno messo due ore per questa missione ed è la prima tra l'altro ah lì ha detto c'è salvo se la vogliamo continuare eh non credo sicura che se chiudi dobbiamo esplodere la macchina che non ce la faccio più ok l'ho fatto esplodere ma sotto i canali sono usciti Marco si perchè gli ho sparato la ok c'è Kino e Falafel devo stare a un tir sii ok possiamo andare ok possiamo andare devo ricaricare stiamo avanti stavo ricaricando però c'è una cosa pesante ho corazza ad armi se volete attenzione al volo no guardate queste le infilo nel DR dovremmo usarle un po' di più io le uso già faccio una clip grazie anche dietro ragazzi anche dietro ragazzi anche dietro ah se vuoi ci viene l'era a correre i punti mettere eh ma devi aspettare comunque eh ma qua sotto c'è quello grosso è sparto diamo quello grosso lo ammazziamo che ci serve la minica tante cecchinate nella faccia ho bagliato ma ce la creo ahia mi butto amici sono ferito non ci vediamo ah beh non c'è un ferito ragazzi come sei qua ma ho usato la cura ma non mi ha tirato su a me perchè ha curato solo voi ahia mi stanno sparando tantissimo non so se sei altruista poi Marco sono anche io niente a me è crashato di nuovo non lo so a me mi servirebbe una mano eh arrivo lì però non è che mi hai crashato ma non dà ci proprio si blocca niente 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 troppi sono tutti qua ragazzi vai su vai su vai vai su andiamo sopra il ponte si ma sopra c'è un modo di gente se è meglio che sotto fino a sai che botto fa a me ne ho video di risparmio ehi se lo ricarico la io non ho più colpi ho sei colpi ciò ma il juggernaut è morto è difficile menca le palle ancora vivo non è possibile aspetta ci penso io ti tiro con lancia granate di termite pronto non ci ne ha granate lancia no è morto prendetevi una minigun va a me c'è come la mattana cazzo adolfo come? come? ah grazie adolfo furetto servono munizioni venite da me ma grande niente ma come? citazione a amici sono giù qualcuno ti può capire sono morto bellissima bastardo dove è l'arma? amici? beh non sta neanche crashando il gioco è sopra è sopra io non posso venire ma spuita mi diventa spuita ma io manco non c'è molto gentile è finita anche la pistola qua è niente è niente termine sono veramente difficili sono solido quindi si eh io morirò si sono morto e sono qua ma ci sono due gente peppe ma riesci a correre qua? no assolutamente ma non è che c'era da settare la tessuta nessuno è su vai subito vado subito vado subito di venire quando non c'è il piede non sto più sparando eh le palle non sparano a te perchè sei a terra hai capito? cazzo ora sono le scanche eh lo so ma non mi devo non puoi uscire volendo uscire ti sparano anche da sinistra ti sparano come anche da sinistra ma è un bastonzo questo ah eh quanti sono di venti ma è in questo no ho fatto un coglione guarda ma è quanti cazzo solo è possibile vado 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 ti viste in 25 secondi 24 23 vado vado oh non è cazzo non è possibile che cazzo gli ultimi 10 minuti facciamo il multiplayer eh fate voi non è inutile che sto rientrati mi devi installare anche lì shader facciamo il multi e via gli ultimi 10 minuti grazie eh non facciamo il tempo a fare niente eh queste qua le rifaremo con calma si le rifaremo piano piano esatto forse la mattina che c'è più tempo vieni per uscire magari che cosa sto vedendo io era veramente della plastica dei teloni di plastica ho visto è del bongo era ok chi è kaiser? era uno che si era infilato cazzo non c'è il nostro hobby siamo andiamo in multipay e vuoi kaiser? perché è il mio party ancora ok è uscito ok ora abbandonati i patti ah infilo espri voglio eliminare le mani morelli forse campground se l'è sbagliato in realtà eh ma secco allora secco i classici cod credo che rispondano all'infinito quindi sì stare fermi non va bene e specops in un'ora non le fate ragazzi magari vediamo la mattina eh la mattina adesso facciamo finito daylight magari pensiamo questo ma la te quella era anche fattiva erano così finito solo che alla fine oddio quasi finito non lo sai eravamo alla terza fase su cinque eh non sai cosa c'era dopo erano terzi i tre cosi eh tre su cinque nel senso tre cosi su cinque non sai cosa c'è dopo non è detto neanche che era finita dopo quel non qui c'è poi che duravamo un'altra ora eh che ne sai siamo partiti eh non so non c'è modo di dire o no eh volete veloce filtro niente c'è che distruggi niente c'è tanto con informatico vogliamo fare ah vogliamo fare quella da 40 giocatori no no quel cazzo no no fai a caso farò a caso è più cinque dopo a parte che durano sei mesi quelli infatti c'è la terza di una caratteristica e il quarto e il quinto che cazzo vedono gli uomini schiacciati dopo un po' un po' vabbè ormai cerchiamo più che l'è è tutto tutto vabbè niente non mi fai più niente ah è gestionito ma come vabbè giustamente è grandissimo il dominatore del papà bellissimo che cosa ho aperto mangio una decorizia qua cazzo mi ha scritto CAISER che cazzo su bar Kaiser secondo me l'ha detto così si KAIS si cazzo Ecco, ho detto così, ho detto. Voglio vedere come stanno andando al fondo a calcio. Due assist, dito voi. Eh? Ha detto che è la patta aperta. Ora, è la patta aperta? La patta della tuta ce l'ho aperta. Bravo. In bala osanta. A me non sembra abbia trovato un cazzo di nessuno. Sta roba del party è assurda, non volevo unirmi. Ma com'è? Ma com'è? Scusa, non volevo unirti. Ma com'hai fatto? Vabbè, Gianluca, ormai è inutile che fai quello che non voleva. Ormai ti sei unito, sei a tutti gli effetti. Non si ci va a culo, lo so, lo dico. Ma a me piacerebbe anche vedere come si potrebbe giocare. C'è, non è, Marco. E poi è un po' divertente. A parte che Deathmatch a Piccadilly vuol dire che dobbiamo tutti... I TT settimana prossima, perché tanto domani saltevo la live, quindi direi ma giovedì prossimo, salvo problemi. Domani sera niente live, mi raccomando amici, ricordatevi. Beh no, mettiamo una live dell'anno scorso. Ma la gente parla su Code, è vero? Io l'ho già chiuso. Signale a giocatore. Fermabanna. Togli l'audio della buccia da Zinpup. Eh sì, c'ha Devo Carle. No. I Piccadilly peggior mappa della storia, dicono. Ma... È abbastanza, secondo me. Once again. Ah no, non lo vedo, io ho detto. Fremarco, ho letto bene. Fermarco. 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 Che cazzo... Perché stavo anche leggendo qua. Ma basta, togli. Ti sembra il momento di messaggiare con le donne su Instagram? Era una cosa importante. Ma di che... Lo dico, sono fatti i miei. Comunque amici, intanto che aspettiamo inutilmente, vi ricordo anche che... La live, il Friday Night Live, quindi la live notturna di venerdì speciale di Halloween, la facciamo domani. Quindi, anziché venerdì a luna, domani giovedì a luna. Avete capito? Ma sta partendo, se non è il tic-tic-tic. No, sì, sì, sta facendo tic-tic-tic. Non lo so più. Ah, c'è un giocato sul... Sul gioco sto leggendo qua che mi ha scritto. E io stavo andando a Battenet proprio, se non notifiche. La luna di venerdì, esatto. Guarda che adesso Vert and Shackle, non c'è anche il nome simboli. Eh sì. Gifter. Ne parlavamo ieri dei gifter. Valentino, miglior pachiderma della storia. Il del mese. No, il secondo non è il miglior. Il tipo del mese. Non mangi, però. Eh, settimanale. Io uso il FAMAS che lo voglio farmare un po'. Domanda esistenziale. Giocando per la prima volta a Figo Pro Club, il mio personaggio è meglio chiamarlo Nello Tarza dall'Italia o Urukawaka dal Giappone? Urukawaka. 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 Come è dal Giappone? E dal Giappone forse è. Saponti, carichi, saponti. Saponi, saponi, cazzo. Sì. Vado di nuovo come reagivi. Vai, piccadilli. Sapponti? Uno. Vai. Devo andare in servizio per la Juve. Buon lavoro. E' questo piccadilli, va a far cagliare. Buonasera, dale. Ma che cazzo ho detto prima? C'è gente lì? Eh, c'è la Claymore, sta classe, è vero. Voglio modificarla tutta. La secca. Ha regalato nel culo! Mi hanno pensato se un Giappone, scusa. Che gira ha fatto? Questa vuol dire avere la... La Claymore? La laser? E' questo po' che è dietro. Ha fatto un errore. Devo cretare il mio occhio. Si, si, come è davvero? Quello dove si sta infilando, non riesco a ucciderlo. Buonasera. Silenzio, però. Eh, ce n'è uno qua dietro, ma... Pippo! Che botta! Con sto boccanile! Ho visto morire! Ah, no, era un cecchino da un centimetro di distanza. Alleluia. Ma le classi si possono modificare? Sì, in partita. Ma dove era? Ma la spalla era? Ma ha fatto il giro. E' Mico, cortile. Accanto c'è modifica. Ok. Ma non ci credo, vabbè, vabbè. Senti, ma... Ma vabbè, 4 contro 3 è davvero una po' di trattissima questa. Ma io continuo a usare il FAMAS, anche se faccio 1-20 perché devo farlo. Ecco se dobbiamo provare poi un'altra volta. Come avevamo già detto, le due contro due tra di noi. Sì. Poi, guarda, carole. Mi sono trovando malissimo. È che prima dobbiamo prendersi un po' la mano, secondo me. Eh, però se siamo tutti pari così, ci sta... Ho giocato anche oggi, è che ho sclerato, poi ho chiuso. Ma non c'è nessuno... Ma perché sono in due, è un nemico. No, sono in due, sono. Ma qualche puttana ti parla, ci senti qua. È un nemico. E' un nemico. Becille, deficiente, cecchino cretino. Cecchino cretino. È uscito così, sono veramente geniale. Boh, non è che mi f... Si è così notto fra due ragazzi, secondo me. Troppo lento. Sperivi caricarvi, sperivi. Mi hanno sparato. ah si ricarico chi è? ahia cosa l'ha sparato? è il cecchino ah si vabbè ha fuggito a pompo il cecchino effettivamente non ha ricaricato da solo ci sta fottendo tutti intanto questo cecchino che fa BABOOM PATAPAPOM SPRAGUN il rumore del cecchino questo SPRA-TUNG 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 GRAGALOPOM nemico vicino al bus nemico vicino al bus vicino al bus certo cecchino se la campera sempre là dentro probabile mi ha appena cacciato 8 metri volto quindi noi non abbiamo una soluzione M4 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 mi garba assai io è mezz'ora che non mi imbatto in qualcuno non è vero adesso no è vero adesso sono entrati un botto di gente noi siamo i 4 stronzi mi so che ci chiamano spec posto the spec buonasera non li trovo comunque però stavo bene ecco lì ma quanti parti opposti ci sono? ci sono quattro andoli via principale via per te con i capelli blu con i capelli blu arriva l'UAV ma io ho un'arma terribile lo avete acceso quello sopra mi sembrava di qua di qua ma ancora la clef sono fuori dalla menchia sono fuori dal tunnel dal 21 si ma scordi lo spot quanti siamo qua? di trattenimento ah ok ma il gas di... sono 7 ma io non li trovo comunque contatto con la menchia maia moro era lì Marco forse... e ce n'era un altro cioè tiri un cecchino di merda non li ho trovati per mezz'ora li ho trovati tutti insieme li ho trovati tutti insieme sono ucciso ragazzi è una energy pill è un integratore alimentare va bene sia per chi gioca tanto sia per chi studia si per chi fa attività fisica aumenta la concentrazione no una... una disufficienza se usate lo sconto termosifoni perca miseria non questo ovviamente comprateli dal link quello lì non succede niente cliccate sul link che c'è lì se volete acquistarlo io lo sto provando mi sto trovando bene ma l'avremmo pubblicizzato no ho cercato granita partita questa è una clamor un cecchino intorno infatti è da dietro è seduto sotto con il mio culone tutto scappo scappo corro destra sinistra batman batman scappo per la città non bisogna usarlo come sostitutivo pasti bisogna solo integrale no ma non è dei pasti ma perchè chi è che l'ha detto no no l'ho detto io perchè magari ma è uno strunz se qualcuno lo sa così tanti lo fanno purtro è un integratore è un integratore che va bene per usarlo quando studi o quando fai attività fisica è semplicemente un integratore si chiamano più energizzante è un energy pill ragazzi è un energy pill l'integratore sono una roba tipo di pasti un integratore è qualcosa se ti manca tipo il ferro prendi un integratore il ferro di vitamine questo è un integratore di energie comunque ci sono varie vitamine P1 B2 la taurina la caffeina c'è tutto scritto lì c'è taurina caffeina eh però quanto vi manca alla fine? eh perchè sono le 21 e 02 non so quant'è? 30 le kill? eh non so se 30 mancano altre kill a loro però eh il integratore di soldi servirebbe credo a tutti sarebbe bello starebbe se ti mancano è per l'interno se ti muoio non so tutti quanti mi sto trovando io buonasera sono espritta il vostro meglio hanno l'uavvi nemico a un volo cazzo mi sgavano quindi ma erano tutti imbascurati le mezz'ora li cercavo sui sporticò da me guarda a te 27 a 28 dai che ce la famo eh eeeh mi colloca a 200 i punti lì cosa? ah beh si è finita il timer ma questo è il cazzo ma io non mi bastava il mouse 30 a 31 mi cambia veramente male no ma è finito il timer mi manca due minuti eeeh si mancano due minuti e venti no infatti non sono 30 sono 70 credo 75 saranno l'altra 75 ne con pensavo 30 perchè siamo partiti con due persone non si facevano kill guardi più che altro non è delimitata bene la mappa l'abbiamo sdrumato ahhh morelli tutti morti fortissimi battimi il 5 sulla chiappa c'è ancora la gente c'è che lo spawn è qua tipo vedo nessuno e quando li vedo muoio esatto esatto c'è che lo spawn è qua morelli ma io sono morto appunto non so neanche dov'era 4 kg fa ho guardato dell'arma 2 quindi magari qua ci dov'è mettere anche un mirino di plastica ma questo è un campione questo è proprio un campione un sportile quindi lì sto da un po' indietro sono tutti la comunque nel vicoletto tutti proprio non ne manca uno ne manca uno granida si mertens di carne ormai manca poco c'è uno po' indietro sono 53 secondi siamo a un vantaggio di 3 punti marco se puoi non morire ma perché sto provando il famas che non lo uso mai di solito non mi trovo bene io non li becco anche nella beta m4 best arma quella mi trovo abbastanza bene però piccadilly è veramente una mappa delle balle non sto più bene a sparare gli ha disinterattato la faccia veramente una mappa delle balle piccadilly così giochi a me minchia appanguro scusi il merda sono sul palazzo un botto di gente tutti la sono perché li viene chiusi nello spawn eh pensa a te che lavora 35 43 no vabbè ma che p***o palle ho ho finito il tempo adesso ah corro adesso io corro l'abbiamo perso alla fine per un punto per un punto le devo che sfinghi per un punto uno punto comunque è sempre top player eh no io proprio per niente guardo ho pensato che sarei oggi quindi amici amici andate tutti da gatto sul piube gli dite scusa per il ritardo va bene vediamo domani mattina con il proseguo di daylight quindi buonasera amici non perdetevi la serie evento ciao belli ciao